Probabilmente un lupo solitario, pericolosissimo. Sul suo profilo Facebook inneggiava la Jihad al martirio e postava manuali jihadisti sull'utilizzo di pistole e bombe. Dopo otto mesi di indagini alla Digos di Teramo ha individuato l'autore dei post in rete, un cittadino pakistano di 27 anni di religione musulmana che viveva con una compagna ignara di tutto a Giulianova. Una volta identificato, grazie al suo passaporto, rinvenuto a casa di alcuni connazionali residenti a Campobasso, il pakistano è stato espulso dall'Italia con decreto del prefetto di Teramo, Graziella Patrizzi, poiché è ritenuto pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Questore, come si è arrivati all'espulsione di questo cittadino pakistano? Si è arrivati attraverso un monitoraggio continuo che stavamo facendo da mesi su soggetti radicalizzati che ci ha portato a individuare questa persona e attraverso tutta una serie di accertamenti e anche di carattere tecnico siamo riusciti a rilevare che sul suo profilo Facebook, che è un profilo coperto peraltro sotto altro nome, come venivano pubblicate immagini inneggianti alla JAD, alle armi, a combattenti in fase di rientro e che quindi ci ha dimostrato come questa persona fosse dedica, diciamo così, al proselitismo jadista. Come avete proceduto? Abbiamo proceduto innanzitutto facendo tutta una serie di verifiche, di controlli, chiaramente pedinando anche questa persona per lungo tempo per escludere che fosse in contatto con altri personaggi e dopodiché abbiamo effettuato delle perquisizioni dove abbiamo rinvenuto i documenti che ci hanno permesso di fare una proposta di espulsione al prefetto di Teramo, il quale ha emesso un provvedimento, anche un provvedimento diciamo così abbastanza particolare e direi senza precedenti per l'Abruzzo, basato sia sulla mancanza del requisito giuridico per la permanenza sul territorio dello Stato, ma soprattutto sulla pericolosità sociale. All'espulsione del Pakistano si è arrivati dopo un'incalzante attività investigativa svolta dalla Digos di Teramo in collaborazione con la Polizia Postale del Compartimento Abruzzo. Fino ad oggi non sembrano esserci collegamenti tra lo straniero ed altri soggetti residenti sul territorio nazionale. Siamo riusciti ad appurare che comunque non erano emersi progetti concreti di atti violenti o collegamenti comunque con organizzazioni terroristiche internazionali. Ciò non toglie che comunque le numerosissime immagini che lui aveva postato sul proprio profilo sono chiaramente inequivocabilmente indicative di un'adesione quantomeno ideologica al terrorismo islamico.